Per dire, le saline che adesso noi abbiamo descritto in una maniera tremenda dentro, in realtà sono un posto bellissimo, sono un oasi naturale, ci sono i fenicotteri rosa, naturalmente non sono stati messi lì, anzi è da moltissimi anni che i fenicotteri vengono e si piazzano lì e poi vanno a svernare da un'altra parte, però sono proprio diventati parte del territorio. Quando vai lì è pace, noi siamo andati diverse volte ad approfondire un pochino, ma quando vai a visitare le saline, le vasche, ti danno proprio una sensazione di pace, è bellissimo. È proprio un luogo meraviglioso. Vabbè, siamo molto informati sulla fauna perché abbiamo probabilmente rischiato di prendere una denuncia dalla ragazza che ci faceva da guida, perché a un certo punto per il libro ci interessava capire, ma mettiamo che ci fosse un disastro atmosferico e che quindi veramente a livello di possibilità di recuperare cibo, comunque tutto quello che potesse essere qualcosa di alimentare, fosse tutto problematico. Ma c'è li presenti alle saline? Sono edibili? Questo ci ha guardato? È così. Che senso? Vabbè, te l'avete chiesto, stavo quasi immaginando che stesse testando l'edibilità del fenicottero. No, no, cioè a un certo punto... Ma proviamo ad assaggiarlo. Vediamo come va. Sapeci che ho filato? Per tutta risposta ci ha dato della salicornia. Sarebbe? È un piccolo arbustino verde morbido, molto salato, che cresce appunto sulle rive delle vasche e delle saline, ma è buona. Ma ho detto, mangiate questo, che è meglio. Dopo vi do il sacchetto di patatine, intanto queste... Ok. Ma che veramente quando scrivi un libro e vuoi più o meno fare un po' di ricerca, cioè ti ritrovi in un sacco di queste situazioni dove tu chiami le proloco, dove vai in visita, dove devi fare domande strane.